Mi chiamo Antonella, vivo a Milano e sono una casalinga, una vecchia casalinga. Niente, praticamente il mio problema era che mancandomi un po' di denti, molari, premolari, un po' sopra, un po' sotto, l'estate scorsa, il mese di agosto, mi si è dislocata la mascella e mi è risuccesso ancora poi a ottobre, per cui mi hanno consigliato di farmi questi benedetti impianti che io continuavo a rimandare, visto il prezzo un po' altino, qua in Italia, sui 2003 impianto. Ho preso informazioni da una mia amica che era stata, non in Moldavia, a SOS Turismo Dentale, ma in un altro stato. Lei è stata undici anni fa e si è trovata benissimo, così. Poi ho sentito un'altra persona che è stata invece che in Croazia, mi sembra in Romania, e sono andata in internet, ho guardato un po' i prezzi, i costi, tutto quanto, e alla fine sono capitata sul sito di SOS. Ho visto i prezzi, sono rimasta. Allora ho preso, ho cercato, ho ricercato, mi sono guardata tutte le mie belle testimonianze, mi sono decisa a mandare la panoramica, mi ha mandato il preventivo, e verso fine novembre sono volata assieme a mio marito in Moldavia, che nel frattempo mi ha seguito, ha fatto anche lui lavori, con un notevole risparmio. Io ho già fatto due viaggetti, adesso ci sarà il prossimo, per fine gennaio del prossimo anno, perché io ho un po' di allergie, mi ha amaretto come di cuore, quindi andiamo con pace e tranquillità, poi non lavorando abbiamo tutto il tempo di starci in un po' in Moldavia. L'ho risolto benissimo, ho un dentino ricostruito proprio qua davanti, a mano dal dottor Andrea, che è bravissimo, come tutti gli altri. Devo dire che la mia esperienza è stata molto positiva, ho incontrato dei bravissimi professionisti, delle persone, oltre che medici ad altissimo livello, che ti trattano come una persona, ogni domanda che tu fai, loro ti rispondono e ti chiariscono tutte, poi c'è una chicchetta da darvi. Io ho avuto un premolare, mi ha vitalizzato un annetto, che mi ha sempre dato problemi, a furia di insistere, di insistere, di insistere, nessuno mi ha dato risposte. Cosa fa? Ne ho parlato col medico. Anche lui non vedeva niente dalla panoramica, però sapendo, io ho piena di allergie medicinali, al micro, al palladio e via dicendo, gli ho detto, ho proprio insistito, ho detto, dottore, lei mi deve fare questa cortesia, me lo levi, mi metto un impianto, perché tanto è stato devitalizzato, è stato ricoperto, ho sempre la bocca infiammata, mi si riempie tutto di piaghe qua. Morale? Me l'ha tolto, ma non contento, il dottore Andrea è stato, lì mi ha sezionato il dente, e l'avevo ragione io, c'era dentro, una vite di quelle di devitalizzazione rotta all'interno, ecco. Io non ho più avuto infiammazioni niente, sto benissimo, gli appartamenti sono favolosi, super arredati, pulitissimi, la clinica è asettica, dire asettica, io ho lavorato nella sanità, vi posso garantire che è pulitissima, poi c'è Babushka che veramente, ti dice, vuoi a te? Non dice proprio così, lei parla russo o rumeno, io non lo capisco, però ti fa capire che tu ti devi mettere le coperture, tutto quanto, perché ragazzi, è importantissima l'igiene. Comunque non vedo l'ora di ritornare, di terminare i miei lavori, e tanto, ogni sei mesi, io verrò a farmi le pulizie, non vi libererete più di me. Un bacione a tutti. Ciao. 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 Ciao.